Sono molto soddisfatta sul tema dei migranti, lo dice Giorgia Meloni, presidente del Consiglio del ritorno dell'incontro avvenuto a Bruxelles con i capi di governo. Ieri si è stabilito un principio, si cambia approccio, che è molto diverso da quello degli ultimi anni. L'approccio messo nero su bianco parte da una frase che mai si era riuscita a mettere. L'immigrazione è un problema europeo ed ha bisogno di una risposta europea. Prima di ragionare sui movimenti secondari, dobbiamo lavorare insieme sui movimenti primari per combattere il traffico di esseri umani e frenare gli ingressi illegali. Noi vogliamo che l'Unione Europea si attivi nel suo lavoro sull'Africa, che ora sta facendo l'Italia. Immaginiamo una cooperazione rafforzata con i paesi di partenza e transito dell'immigrazione per combattere anche i traffici illegali e consentendo alle persone di entrare in modo legale con flussi ben regolati, ha detto Giorgia Meloni. Abbiamo chiesto che il piano sulla rotta centrale del Mediterraneo va implementato e messo in moto. Io sono convinta che vedremo questa cooperazione, che per esempio vuol dire prendere risorse e impiegarle verso sud e non verso est. Sono stati spesi 6 miliardi con la Turchia per gestire la rotta balcanica. Io ho un obiettivo simile con i paesi del Nord Africa. Chi ha 3.000 euro da dare ad uno scavista può tentare di arrivare in Europa. Chi è ancora più povero non ce l'ha. È umano questo, ha detto Giorgia Meloni. È arrivato il momento di dire che non possono essere i criminali a fare la selezione di ingresso in Europa. La dobbiamo fare noi, sia per i rifugiati che per la migrazione legale. Con i paesi africani si può lavorare meglio, anche attraverso il rapporto con i nostri consolati.